Che caldo, ho levato la... Ciao ragazze, ho levato la... La connessione wifi, sta scagliando Sto scagliando io Io penso che se c'è un uomo in questo momento che vede la diretta Lo vedrà indifferita Non mi scriverà più E sono contenta Ve li sono levati dalle palle Ora si vede ho levato la connessione wifi Parliamo di Temptation Island O di qualche figura di merda Michael, che ti chiami Michele Ma perché cazzo ti fai chiamare Michael se ti chiami Michele? Non mica capito E poi Si fa caldo Amore a prima vista per questo gruppo Twenty buttons, hai rotto A orte finale di Temptation Island Dove Lara ha le extension Perché Lara ha le extension È veramente passato un mese Non lo so Perché dico, come è che gli hanno messo le extension Per farci capire che è passato un mese Perché in un mese non crescono i capelli così Ma si capisce perché qua ce l'ha spezzati che c'è nel station No? Quindi non è passato un mese Dico, come se incazza E io capisco che non è passato un mese Quando sente parlare la single Rita Che dice Che Michael Michele Cazzo ti fai chiamare Michael? Michele dice Ma... Cioè Rita dice di Michael De Michele Ma che lui gli scrive Che lui gli dice Sì, la mia coppia preferita Daniela Che lui gli scrive Che lui Praticamente La prega che si è innamorato Che si vuole mettere con lei Questo è psicolabile Perché è un uomo debole Insicuro Io ho detto Lara si incazza Io capisco che non è passato un mese Perché invece non si incazza Dico Lui è passato un mese Gli è passata La vedo più tranquilla Infatti lei stessa dice Io scoppio a ride E se fosse stato un mese fa Sarei Mi sarei incazzata Mi sarei arrabbiata terribilmente Ho detto Cazzo Lui è passato veramente un mese Perché la vedo tranquilla Molto più rilassata E quindi capisco Quella buona donna Te smonto come un mobile dell'Ikea Come l'abbiamo ribattezzata tutti Lui è un pezzo di merda Manco poco Quanto mi piace quando parlate Volgare Mi piacete un sacco Dicevo si fa chiamare anche Michael E' un deficiente Perché te fai chiamare Michael Se ti chiami Michele Ma che cazzo Queste sono le italianate di merda Lara è stupenda Allora Se voi ricordate Lara all'inizio A me non ci piaceva E io l'ho un po' All'inizio Anche a me Dico Madonna questa è agitata È neurotica Però poi mi sono immesisimata In una donna tradita Due volte Cioè che scopre la seconda Poco prima di entrare In una donna che non riesce più A avere rapporti col suo uomo Perché come cazzo fai Dopo che sei stata tradita No? Perché Anzomaro Sì Alice Alice dice che I oh Anzomaro Una donna tradita Una donna che comunque C'ha avuto Da quest'uomo Trattamenti di merda I denti schifosi Io dico Anzi che lei Per amore è riuscita Quindi ho detto Questa ha sopportato La finestra esplode Quindi sta a nevrotica Sta a carica Come un leone E quindi arriva pure In un percorso Che a un certo punto Non me ne frega un cazzo Come ha detto lei Perché è un carattere forte E infatti C'è piaciuta È piaciutaissima È piaciuta a tutte Questa donna Perché Alla fine Di tutta quel marasma Di trasmissione È stata l'unica coerente L'unica pecca sua È stato ballare In quel modo Col single Ma può essere anche Stato dettato Da un attimo Di rabbia Mi ha detto Che c'ho denti brutti Che sto grassa Che faccio cagare Ma Michael Fai schifo C'è stai a provare Serri nega a lei Ha detto che ha letto Con lei da noi Ha detto che lei fa schifo Sì È parte il discorso Lara Fedi Lara Cioè a me Lara Alla fine Io penso che Tutta Italia Per lo meno quelli Che hanno seguito Temptation Island A tutta Italia Alla fine È piaciuta Lara Nella sua genuinità Nella sua sincerità Nella sua franchezza È il suo mettersi Veramente in gioco Scoprendo le carte E facendoci capire Quanto ha sofferto Questa donna No? Come una verza È stato aperto Come una verza E sono stata contenta L'ha smerdato E credo che la redazione Compreso Filippio Abbia avuto una simpatia Per lei Abbia capito il suo disagio Il suo essere maltrattata E che lei abbia Veramente il diritto Di essere felice Gli guardava quattro Non fa un cazzo Perché non lavora Ma te che cazzo fai Oltre ad andare a lavorare È vero portare un stipendio Poi te ne va in palestra Fino a lunedì notte E qua Abbracciata Aspetta con la cena Aspetta che tu rientri Te tieni quattro cani Te cucina Te va a fare la spesa Te pulisce casa È un lavoro Quattro cani È un lavoro A casa mia È certo che lui La rigola La rara E mo' Gli tocca pulirsi i cani Lui In palestra Non c'è Può andare Perché deve tornare a casa Se deve piare i cani Deve lavare Deve pulire Deve portare Fai bisogno E poi Quando ha in palestra Se gli ha Fai Capito Comunque L'ara ha fatto bene L'ha smerdato E secondo me Era quello che lei Intendeva fare L'ha smerdato Davanti a tutti Italia Perché adesso Un uomo così Voglio vedere che cacchio Se lo prende Non mi fiderei Non si fiderebbe nessuno Di questo Prendere l'acqua A mio figlio Io penso che Zanzare Non si fiderebbe È una donna Come su dire i cosiddetti È ma è l'unica è stata Perché A un certo punto La Martina Che è la Martina Con Giampaolo E Martina Si chiama quella Sì Quell'altra Giada Ha fatto Tra Giada e Francesco Ve lo pietoso Perché non è Non sono stati Molto interessanti Scusate Ma nel mezzo Pijama Non sono stati Molto interessanti La Giada Col Francesco Martina e Giampaolo Alla fine Sì Lei l'ha lasciato Ma comunque L'ha rincorso Pure quella senza Attributi Mi dispiace La mi sono chiusa io Io ancora non ho capito Il senso del falò Tra Giada e Francesco Vabbè Pensavano che scoppiassero Dopo 9 anni Ma quei due Non si lasciano Di certo Davanti ai telecamere L'unica che è stata Sincera Non è essere trasparente Vabbè Raffaella Non la colpevolizzo È innamorata E vuole credere A quello che gli dice Andrea Secondo me Si è fissata Non è solo innamorata Si è fissata Ciao Ista Enza Si è fissata Secondo me La Raffaella Si era fissata Neanche io Marzi La Raffaella Si è proprio fissata E non vuole Bullare Andrea Probabilmente perché Sono cresciuti insieme E Lei lo vede come L'uomo della sua vita Ma secondo me Come un fratello Si Lui non la lascia Per una serie di implicazioni Ma non puoi pigliarla per culo Dicendo che Teresa Non la vedi come un'amica Perché in realtà Tu ti stai mettendo alla prova Ma di che Ma cioè Mi marito Mi mette alla prova Con una del genere Sfondo Lei e lui Scusate Cioè Che cazzo Se stai rampita sui specchi Stai pure a scivillare Io mi sono voluto Mettere alla prova Con Teresa L'unica che mi poteva far capire Che io sono innamorato di te Quindi te sei fatto Baci al petto Te sei fatto Baci ai sopracciglia Te sei fatto Fra i grattini Non erano grattini Era una grattata Secondo lui Ma tanto sempre Le mani addosso D'ammesso Lei rincorsa La sua spiaggia Lei che è fintissima Teresa Mi dispiace Ma è fintissima Sarà pure gnocca Quello che ti pare Poi non ho capito Ho visto delle foto Di Teresa prima Si è rifatta Cioè Ha messo la parecchia ai denti Si è rifatta qualche cosa Non so se l'avete vista Voi le foto Mentre Martina e Giampaolo La mamma che porta il figlio a scuola No Cioè Martina però pure Lei gli piace Fa la mammina E parlamosi chiaro Che le dà la colpa Aspetta Irene Stai parlando di Andrea È l'uomo che le dà la colpa Alle dò Non ci provocano Non ho capito Gliela dò io la prova Sì sì Lui se vuole la metta alla prova Con Teresa Parlamosi chiaro Se vuole la metta alla prova Con Teresa Sì secondo me è rifatta È rifatta Ci gioca su sta cosa È una persona Gretta Non è una persona di cuore Non è una persona che La vedo gretta Non so perché Ma io la sento Questa donna a pelle Non la conosco Non mi potrei neanche permettere Ma se in televisione Diamo un giudizio Su quello che vediamo No Si parla di quello che vediamo Io lo vedo Una persona gretta Una persona che comunque Non Non prova sentimenti veri e reali Allora Sì è vero Martina Gli è piaciuto prima a lei Ragazza no Poi negano di non essere rifatte Sì mi è fatta È rifatta tutta Secondo me pure il seno Non lo so Pure qualcosa in faccia Non lo so Secondo me Andrea Era tizzato fisicamente Ma non preso A livello proprio mentale Sicuramente era frenato Dalle telecamere Sicuramente era frenato Dal fatto che Raffaella I genitori I genitori suoi Potevano vedere Tutta questa situazione Ma secondo me Lui intende E forse vorrà E ci stava pensando Però sa pure Che lei lo sputtana Vederla fuori Ma non per farci Una storia seria Perché lui stesso A un certo punto Ha detto T'ho giudicato male Quindi aveva pensato Che era un poco di buono Sì chiamata matura E coerente Parliamo di Martina Se non c'era La telecamera Avrebbe fatto peggio Sì infatti E poi dice che Gianpaolo Avrebbe messo in cinta Anche il tavolino E che non era Un uomo comunque Maturo e coerente Ma te invece La coerenza andosta Cioè hai visto Quello che ha fatto lui Ma anche in parte Perché tu l'hai visto Dopo quello che ha fatto Lui A te Andrew Ti piaceva E se non c'era Niente le camere Tu Andrew Ci avessi fatto di più Anche il NASA Ha rifatto Non lo so ragazzi Io queste foto Non le ho viste Ma forse e Valentina Vabbè Quei due Ma se si rivederanno Lunedì c'è un'altra puntata E là proprio Mi sa che Me collego con voi Io non so Se starò a Roma Vedremo Non lo so Forse e Valentina Oh Cominciò a vedere Lo sonnellino Io non so Se Forse e Valentina Secondo me Boh non so Lei secondo me Si sta a spezzare qualcosa dentro Io gli spezzerei Lo so per collo a lui Ma è un altro discorso La malattia delle donne No La malattia delle donne Non si può sentire Ma che c'hai Ma questo è un uomo degli anni sessanta Che dicevano ste cose Ma dove sei cresciuto Ma chi ti crede di essere E ritorniamo Al prototipo di uomo Che non ha la concezione Delle sue possibilità Le sue possibilità sono Che con quel carattere Che ti ritrovi Con quell'aspetto Che ti ritrovi Tu Non è Anzi Facciamo un altro discorso Perché non è proprio così Puoi essere brutto E avere fascino Non vuol dire un cazzo Ok Il punto è Che poi orrendo è vero Non la parodia Sì infatti Allora il punto non è quello Il punto è che lui Non ha la cognizione Del fatto che non te le puoi Rimorchi a tutte Che non tutte Vengano a letto con te Ecco che cosa volevo dire io Non hanno la percezione Alcuni uomini pensano Che quella ma la dà Ma perché? Ma quella non la dà Perché gli uomini Io l'avrei lasciato ronzo La malattia delle donne Giustifica Quindi ragazzi La concezione è che lui Non si rende conto Anche delle sue possibilità Cioè non è solo Una questione di possibilità È una questione che sa Una ne piace E ne piace Lui non ce l'ha sta cosa Ma secondo me Lui butta l'amo Nell'avo E qualsiasi Poi sciacchiappa Va bene lo stesso Senza le fidanzate Facevano i figaccioni E poi al falò Piccoli Annelli di festa E questi cari mie Sono tutti gli uomini Così Tutti Tutti Non se ne salva uno Davanti al video Bello mio Ah Poi Riccardo Parliamo di Riccardo Voleva l'angolo Senza telecamere Per andare a fare la pipì Voleva un angolo Ma qui non c'è un angolo Senza telecamere E lo diceva sempre Davanti Alle single A una single da sola Perché sperava Che quella gli diceva No lì ci sta Lì non c'è Puoi venire da me Cioè ma che ti aspetti Che ti dice Ma che cazzo Ti crede a essere Ma poi ti sei visto Fisicamente Sei fisico Ma poi ti pensi Che quelle Ritorniamo al discorso Ma pure Ida Basta che ha detto Il nome dei tuoi figli E tu ti sei buttata Ma io lo crocchio Come lo vedi Arrivare al falò Uno così Non c'è un angolo Senza telecamere Ma che cosa vuoi Che vuoi Perché lo dice Che vuole fare Senza telecamere Che dobbiamo fare Come alle scuole Elementare E suggerirti La risposta Che vuole fare Senza telecamere Questo Martina Con Andrew Ma poi perché Si fa chiamare Andrew Quello Ma perché quest'altro Si fa chiamare Michael L'Andrew Come se io mi faccio Chiamare Manuel Da domani ragazze Voglio essere chiamata Emanuele Emanuele Io non sono più Manuelita Voglio essere Emanuele Ma va fa culo Mi chiama Emanuella Mi chiama Emanuella Ma che è stosa I denti I denti di Lara Ragazze Qui Erano proprio Accavallatissimi Lì proprio Intervento subito Con apparecchio Con dentista Ma anche All'iero di masticazione Secondo me Ragazze Voglio essere chiamata Manuelita Da domani Emanuele Daniela se la ride Emanuele Ciao ragazze Non so È più fashion Sì vabbè Quando è venuta però Dopo un mese Era vestita di nero Che per una donna bionda Con l'allungamento Dei capelli Biondi era fantastica In maniera rock Mi piaceva Quella giacca Diego Non so se avete visto Tutto tutto Era vestita molto meglio Era anche dimagrita Secondo me I denti E manca da sistemarsi i denti Perché il viso E il personale Secondo me Ci starebbe anche Fisicamente non fa schifo L'ho vista in costume Deve solo perdere Un paio di chili E rassodare Perché anche come Come lato biolo Proprio A un certo punto Mi era appassionata Sta persona Che ho cominciato a pensare Come doveva vestirsi E acconciarsi Secondo me Io non avrei messo Il costume nero Essendo così chiara Di carnagione La bronzatura dorata Le donava Ma Le luci da labbra Le stava bene Solo che Mette risalto Delle belle labbra Che ha Purtroppo Mette risalto Anche i denti Non mi piace Quando fa le facce Estrani Così Se volete Che ve la faccia Guarda Guarda il video Che è meglio Non faceva Tutte ste facce Mi sembra Un cammello E anche Io Mentre guardavo Mentre guardavo La diretta Del falò De ste cose Mi veniva da fare Io non so Perché fa così C'è la lingua Youtube Mi chiede Grazie Marzi Io Io chiedo Perché fai così C'è la lingua Cioè Io voglio Io voglio Io voglio Apprendere Da questa donna Determinate tecniche No Non ce ne esco Dovrò guardarmi Youtube Su Youtube Questi video Per capire Come fa La lingua Non lo so Non ce riesco Così forse no No vabbè C'era un perché Vabbè E la vi faccio vedere Giampaolo Il tic di Giampaolo Guarda il video Che quella Se star bacia Non mi spaventa Sì Michael E Pier Silvio Berlusconi Paga E poi Il ketchup Sul lenzuolo Col ketchup Eri tutta la mia vita Battarirone Col ketchup Sul lenzuolo E per Silvio Berlusconi Lava Berlusconi Lava E ripara Eppure Riccardo Lo chiude Quell'altro Invece L'occhiali Nel falò Che cazzo Fate E perché Quando Michael Entra Nella casa E con la gamba Da tacchino E rompe la porta No Un pezzo L'ho perso A parte Il tacchino Michael Michele No Io sto risata C'è mio marito Che dice Che cosa Ti fa questa Stai mutando Amore Non ti puoi far vedere Ti copro io Fai l'imitazione Di Francesco Al falò Oddio Hai capito Facceva così Facceva Tu non devi parlare Devi stare zitta Parla solo io Non devi dire niente Quella Ma E U A E I O U Devi stare zitta Perché io mi sono rotto Io mi sono scocciato Di te Io Non ne posso più Ecco Quello è lo sguardo Che io volevo vedere Quello è lo sguardo Che mi ha fatto innamorare Fammi rivedere Quello sguardo Zitta Devi stare Non devi parlare Non devi fiatare Non devi dire niente Hai parlato per troppi anni Cacchio Sei una maga Rimacchinetta Sei logoroico Io non c'è credo Che quella Non ha mai parlato Parli sempre Dei parli Già dentro Alla casa Alizio era partito La mia donna È fantastica La mia donna È stupenda La mia donna È qua La mia donna Mi ha rotto le palle Parla solo lei Cioè A un certo punto Tutta la finzione Tutto quel Per me è una finzione Per me si due fingono 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 Sì Io rito da morire Il mio marito Che mi guarda Idem Shanti Devi stare zitta Non devi parlare Parlo solo io Hai capito Perché tu mi hai rotto Perché mi hai soffugato Il Francesco Che c'è a me Quello che ho ritrovato Qui Il percorso Che ho fatto Ho capito Chi sono Che sono Stronzo Perché Ma A I A Lei con tutti i tatuaggi Un nome Molto gonfie Voglio dire su una cosa Il Rolex Chi ce l'ha Tu o io Cioè Voglio dire su una cosa Il Rolex E che ne sa Chi ce l'ha sto Rolex Manco lui Ce l'ha al porso Sto Rolex Ve prego Ve fate troppo ride Sto diventa rosso Ho fatto un percorso E il percorso Che ho fatto io Raffaella È stato quello Di È stato quello Che ho usato La single Teresa Io l'ho solo usata Non mi piaceva Per niente Sotto Alla Al cuscino Non c'è stato Niente Un percorso Molto importante In cui io ho capito Che tu se la do Nella mia vita Ma vaffanculo Ma che dovevi andare là Per capirlo Ma vaffanculo Io mi sarei alzata E me ne sarei andata Per carità La felpa Gli dava la felpa Per dormire Dormivano insieme Questi che dormono Poste single Come ha detto lei Era lei che mi toccava E certo Mica tu gli hai detto Come dice Raffaella Lei va tenenanzi Eh Hai visto quando Michael Si è inventato la storia Dell'andrologo No Beh lì veramente Io gli avrei menato Lo giuro Se poi alla fine Gli fa anche gli auguri Per il compleanno Se ne vanno E se ne vanno Mi hai fatto gli auguri Per il compleanno Io lo stai suggeri te Mi hai fatto gli auguri Del compleanno Mi hai fatto gli auguri Del compleanno Ah ricordaglielo No Allora basta regali Basta Però un regalino ogni tanto Ma l'avete sentita Quando già da prima Che lui la prendesse Per ballare Che si guardassero E tutto Gli ha detto Ah però qualche regalino Ogni tanto Che cazzo Guardi che c'entra Posso dire Solo una cosa Ti amo Ti voglio bene Voglio sacco te No Il Rolex Qui ce l'ha Ah Mio Dio Aspettate che non so Se avete scritto No vabbè Allora Alla fine vedo Molta finzione Martino e Francesco Ciao Giada e Francesco Se ne vanno Quando lui gli fa Il compleanno Questo è lo sguardo Che volevo vedere Questo è lo sguardo Che volevo vedere Se sono chiocchere Se sono chiocchere distintivo Se sono chiocchere distintivo Se sono chiocchere Sì infatti Se sono chiocchere distintivo Se non mi abba E quell'altra invece La scena in cui Io non mi ricordo Come si chiama Il figlio di Ida E Riccardo dice Donne che non si ama Calce nel culo Esatto Si blocca di nuovo Non me lo dire Nata Giada e Francesco Quell'altra coppia Riccardo e Ida In cui Riccardo Vabbè Si vedono tutti i pezzi In cui quella gioca A nascondino Cucu Che ne so Perché stavi giocando Non lo so Non me lo ricordo Giocava a nascondino Ma a nascondino Di che? Vi sarei nascosti insieme Ma va a fa culo Samuele E Riccardo dice Io nella mia vita Devo cosa pure a spegnere Ida E da qualche parte C'è il carico a batterie Devo considerare solo Ida e Samuele E Ida Che già non vedeva L'ora di farlo Ha preso Sta scusa Per saltare addosso Tagli in bacio E ne abbia Ma la cosa Nella sua testa Già c'è stava Perché l'ha fatto Proprio in una maniera Studiata Ok Si Samuele Daniela Si si Mi pare proprio Samuele Comunque Avete capito il senso L'altra coppia La Raffaella Raffaella O Raffaella E Andrea Lui rideva Già quando è arrivato Perché tanto sapeva E se lui si è permesso Tutte quelle cose Dentro la casa È perché sa perfettamente Che Lei gli perdona tutto E gli permette tutto Quindi lui Non ha avuto paura Di lei Manco Pe niente Delle telecamere Dei genitori a casa Dei suoi ceri a casa Ma di fare quelle cose Con lei Abbraccia Perché era anche Andrea Che la abbracciava C'è stata più di una volta La serata di casa Con i vestiti In cui la Teresa Aveva il vestito rosso Che stesso Andrea Ha abbracciato direttamente La Teresa È piccina ancora Raffaella Ma secondo me Un pochino Sta aprendo gli occhi Lei stessa ha fatto Dei ragionamenti Molto intelligenti Anche all'interno Della casa Ma che ahimè Non riesce a mettere In pratica Che mi lasci Cosa ci sta a fare Con me Se è solo abitudine Si vede Che è preso da questa Gli piace questa Fuori da qua La vede Sta a 20 km Da qua Sta a 5 km Da là Lei comunque Da lei è presa Lui comunque Non è innamorato Come me Non è preso come me Ha fatto ragionamenti Intelligenti Che ahimè Non ha messo Però in pratica Per il suo bene Soffrirò un anno Soffrirò due anni Che maccita Chi se ne frega No Però Comunque sai Ti segui su Youtube Ma qui è molto più bello Allora vorrei dire Che dovrò mettere Questa diretta Su Youtube Me stai a di Chissà che domani Non mi mandano a cagare Potrei anche mettere Vediamo quanto è durata Questa diretta 30 minuti Che dice Ma ammazzano Su Youtube Se metto una diretta 30 minuti O se divertimo La mettiamo su Youtube Questa diretta Anche se è venuta In questo modo schifoso Questo formato qui E' più bello Perché parliamo Tra di noi E chi se ne frega Che la guarderanno Solo in 500 In 500 Ci faremo due risate E chissà Che quella Maria Barra non so come Non si faccia due risate Pure lei Comunque Tutte le coppie Le abbiamo analizzate Perché io In realtà O Ronzo e Valentina Non hanno senso Nel senso Nel senso che O Ronzo e Valentina Per me neanche le ho Vissuti appieno E ma su Instagram È spettacolare Ma secondo me Non si lamenta nessuno No è vero Devo dire la verità Chi pure li guarda Chi non no Posso scrivere chiacchiere Tra amiche E Temptation Island Perché quando scrivo Temptation Island Direttamente chi Famose due risate Su Temptation Island Non so Suggeritevi un titolo Spero che Instagram E mettiamolo subito Sotto carica Mi faccia salvare la diretta Perché se non me la fa salvare Ragazzi Non la posso mettere su YouTube Ragazzi vi lascio Cerco di salvare la diretta Vediamo se riesco a metterla Su YouTube Se il mio marito Non passa e ripassa Che non è presentabile Sta come Dandone della nonna Ciao Marianna È stato proprio cattivo Infatti un nome del genere Io non lo vorrei vedere Ma può essere bello Poi mi sembra un po' George Michael dei poveri Voi ricordate I want your sex Na 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 Mi pare lui Mi pare George Michael dei poveri Secondo me un po' Gli avranno detto Che gli esomiglia Ma Ecco perché si fa Chiamare Michael George Michael No Cioè Non mi dite Che ci sono arrivata io E che è proprio così Siccome lui è George Michael Dei poveri Si fa chiamare Michele Si fa chiamare Michael Perché poi il singolo Andrew Perché si fa chiamare Non so se Andrew è figo O non è figo Alle colleghe piace Ma io non so se sto Andrew è figo O non è figo Perché te fai chiamare Andrew pure te Ma non si chiama Andrea pure quell'altro Ma perché si fanno Si cambiano i nomi Non riesco a capire In Italia C'è questo brutto vizio De fare gli americani a Roma Ma che è Che è successo Niente Abbiamo sparlato Questa diretta Se non la vedete qui La salvo E la metto su Youtube Ragazzi Vi lascio Perché Allora Tanto figo Bello figo Niente Vi lascio Mega basso Sicuramente ci sarà Si vedrà strana Su Youtube Perché non l'ho girata Nel solito formato Ma tanto sono ciance Non dobbiamo far vedere niente Mega basso Buona notte Ci vediamo domani Ciao Chiara Ciao Marianna Oddio perdonami Marianna Ogni volta Che ti devo chiamare Oddio Vatti a rivedere la diretta O qui su Youtube Comunque vi avviso Su Instagram Vi metto un post subito Lo capite subito Se sta qui o no Paci Mamma mia 37 minuti Aiutaci Uha